Allora, intanto mi riusco anche io a ringraziamenti per l'organizzazione del talk e ovviamente l'editrice e gli editori che hanno parlato prima di me, anche Emma per il suo quadro confortante del settore editoriale. Ovviamente hanno fatto un quadro molto completo, anche molto complesso, che è stato fatto dell'editoria e soprattutto della distribuzione. Arriva ad ultimo la parola a me che sono una casa editrice senza distribuzione e quindi come Cronaca e Ribelli voglio dare un attimo un quadro di cosa vuol dire invece, cosa è stato per noi, il motivo, cioè i motivi in realtà l'hanno già spiegato loro, perché Cronaca e Ribelli non ha distribuzione, perché non ci siamo voluti inserire in questo tipo di dinamiche, ma provo a dare un po' un quadro di quella che è la nostra realtà e come si lavora invece evitando quella che è la grande distribuzione. Faccio un piccolo cenno autobiografico, noi siamo un progetto in realtà che è nato nel 2016 come progetto di divulgazione sui social network. Abbiamo iniziato con una pagina che si chiamava Cannibali e Re, agli origini, poi diventata Cronaca e Ribelli. Quando nel 2018 abbiamo, nel 2017 in realtà avevamo deciso di pubblicare un libro, ovviamente si ponevano varie opzioni, noi abbiamo ricevuto delle offerte per dire vabbè scrivete questo libro come autore, come collettivo, avete queste condizioni eccetera eccetera. Che ci faceva anche piacere perché non conosceva insomma il nostro lavoro, ma non c'era da noi, già da lettori, un po' una visione critica di quello che era il mondo dell'editoria e ci siamo voluti fare due domande sull'opportunità di autoprodurci. E già qua cosa vuol dire? Questo vuol dire che fondamentalmente poi la decisione è stata appunto di continuare con l'autoproduzione e che quindi il primo libro, noi abbiamo passato ore e ore delle nostre vite letteralmente alle poste in fila a spedire i libri. Questo è un esempio anche sciocco per dire cosa vuol dire, all'inizio decidere di stare fuori da un circuito di distribuzione. Con gli anni poi insomma abbiamo avuto un ritmo molto lento, non da case editrice perché pubblichiamo letteralmente 1,5 libri l'anno, dicevi prima 8-9 per qualche volta, noi addirittura partivamo così, forse supereremo quest'anno per la prima volta le 7-8 pubblicazioni in un anno e abbiamo deciso di continuare con questa strada. Quindi noi non abbiamo mai ad oggi firmato un contratto di distribuzione che implica una conseguenza principale, brutale, cioè i nostri libri non sono nelle librerie, o meglio non sono nelle librerie sicuramente di catena, quindi le librerie della Feltrinelli, Mondadori e via dicendo, sono post, cioè noi li spediamo volontariamente se sono interessate le librerie, questo è un altro punto che poi insomma bisogna anche capire, nelle librerie indipendenti che appunto vogliono distribuire il nostro progetto. Abbiamo seguito appunto per questo una strategia completamente diversa che certo facendoci forza dei nostri numeri sui social, che comunque di centinaia di milioni di persone, ovviamente non è un modello poi replicabile dall'oggi al domani da chiunque, ma per dare un esempio, uno stimolo, un'attenzione, no, su quello che vorrebbe dire, abbiamo continuato, siamo una casettrice che ha iniziato a lavorare all'inverso di come lavorano, cioè la maggior parte delle nostre vendite, parlo veramente dell'85-90%, sono nostre vendite dirette, di libri acquistati banalmente sul nostro shop, e poi ecco gli eventi come questi e qualche libreria in una quota decisamente minore. È ovvio che come detto ha vantaggi e svantaggi, il principale vantaggio è che effettivamente noi siamo liberi da questo cappio, da questo meccanismo che Emma descriveva bene, certo, siamo sulla quantità, non abbiamo nessuno che rincorre questo credito che viene formato, non abbiamo nessuno che, insomma, ci segue, ma diventa difficile letteralmente poi far trovare il proprio libro, nonostante il nostro lavoro che è stato fatto in maniera veramente pressante tra il 2021 e il 2022 sulle libri indipendenti, cioè la possibilità di dire a una libreria che vorrebbe, insomma, anche magari che soffre per queste dinamiche di cui si parlava, dire guarda c'è un progetto editoriale, fai dei libri che ti possono piacere o non ti possono piacere, perché poi dipende da quello che ti interessa, noi ci occupiamo di storia dal basso, da questo punto di vista, può interessare, non può interessare, il libro può piacere, non può piacere, ma dico ti proponiamo, insomma, questo tipo di casa editrice, però il cliente che è interessato al libro poi lo trova sul territorio solo da te, perché ovviamente poi, altra conseguenza che non ho detto prima, il fatto di non essere in questo circuito non siamo neanche su Amazon, né su IBS e altri grandi, insomma, grandi shop. E lì c'è stata, insomma, un'accoglienza magari entusiastica nelle parole, ma poi nei fatti meno, insomma, meno propensa. Però questo, chiudendo, diciamo, volendo dare un attimo la quadra di quello che è stato con la Caribelli, nonostante ciò, dal 2018 ad oggi è un progetto che è stato in grado di distribuire più di 30.000 libri, in maniera completamente e totalmente indipendente. Per noi è, insomma, può essere quello che è nostro progetto un attimo uno stimolo, un modo per interessarsi e capire se tutta questa dinamica che loro hanno descritto bene può essere in qualche modo affrontata, superata, anche semplicemente discussa e capito quali possono essere, insomma, le strade per aggirare queste difficoltà, per aggirare comunque questa presa che si serra sempre di più su fondamentalmente tutti gli attori del percorso editoriale, quindi dalla casa editrice fondamentalmente alle librerie. Questo voleva essere giusto, insomma, un'idea di scrivere quello che è stato il progetto per iniziare a porsi anche a noi come editori, ma anche lettori, alle librerie, forse più di tutti, domande su quelle che possono essere strade alternative. Grazie. 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 Grazie.